Carissimi amici è arrivato per il YouTube e oggi siamo qua con un nuovissimo gioco Oggi siamo qua su Baby Life 3D Praticamente in questo gioco la mia fidanzata è rimasta incinta E noi dobbiamo fare le varie scelte per poter proseguire con i livelli Questo gioco comunque ricorda vagamente 100 anni simulator Un gioco che vi è piaciuto un sacco, mi fa veramente tanto tanto piacere E spero che anche questo gioco vi possa piacere E quindi che dire partiamo subito ma come sempre C'è di questo tantissimi like Se la chi che lascerete sarà pari la bevanda associata a voi sarà l'aranciata Se la chi sarà dispari la bevanda associata a voi sarà la limonata Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale bevanda siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche vi farete parte della panino femmine Ma adesso partiamo subito Cominciamo, tocchiamo subito play E si parte qua La nostra ragazza è rimasta incinta E quindi oh my god Sono incinta Quindi cosa scegliamo? È un baby oppure soltanto un po' di gas? E no, è un baby quindi E niente È rimasta incinta la nostra cara fanciulla Adesso cosa dobbiamo fare? Cosa dovrei dire per prima cosa? A chi lo dovrei dire? Al mio fidanzato? Oppure a mio marito? Come? E cos'è? Fidanzato o marito? In che senso? Cosa? Tutte e due le cose? Cioè cosa? Fidanzato o marito? Vabbè Io sono il fidanzato quindi dillo a me che sono il fidanzato E adesso vediamo che cosa succede? Insomma non è che posso votare adesso Oh Ho alcune news da darti Sono incinta Oppure sei pronto a diventare padre? E diciamo qua Sono incinta Ok Il fidanzato che sarei io all'interno di questo gioco è contento Vai E adesso dillo a mia madre E non posso perché dovrei guardare un video Perfetto Primo livello completato Prima settimana completata Si parte adesso Cosa dobbiamo fare? Che cosa dovrei preparare Per la mia stanza del bambino? Ok Quale colore scegliamo? Verde? Giallo? Blu? Oppure rosa? Ma io sceglierei blu più che altro Perché è il mio colore preferito Che poi è un azzurro più che blu Vabbè E ne mettiamo così Uh Ma devo anche dipingere Ma che bello No no Ma da notare che quando provo a dipingere C'è proprio il telefono che si mette a vibrare no? Proprio per dare la sensazione di pittura Sì vabbè Ma in questo modo ci metterò una vita A dipingere sto muro Cioè No no Seriamente E quanto tempo ci vuole qua? Ok Fatto fatto No arriviamo verso la fine Magari mi da qualche soldino in più Proviamo a vedere Su su Dipingi tutto Pittura pitturiamo Va Che qua dobbiamo lasciare Dobbiamo pitturare tutta quanta la stanza Non lasciamo buchi Sì vabbè Andiamo avanti Lasciamo buchi Non mi interessa qua Che ci mettiamo una vita Ok Amichetta cara Tutto bene Tutto bene Dove prendere dal dottore Oppure stai a casa No no Andiamo dal dottore Non si sa mai Che qua Qualunque cosa Da tenere sotto controllo Ok Siamo qua dal dottore Dottoressa cara Ok Vuoi sapere se Maschio o femmina? Sì sì Dai Conosciamolo Voglio sapere È un fanciullo Ah ok Quindi sarò padre Di un bambino Vai Ok Che sta succedendo? Uh Un cagnolino Ma che bello Cagnolino Buonasera Benvenuto a casa mia Oh no Per adottarlo Però devo guardare un video Eh mi spiace cagnolino Qua mi fanno guardare i video Se voglio adottarti Ma che è successo? Ma da quando bisogna guardare un video Per adottare un cagnolino? Non si è mai visto una roba del genere E però in questo gioco Me lo vogliono far fare Eh però non posso Perché non sono collegato ad internet Per il momento Uh settimana 2 Completata Proseguiamo E adesso cosa succederà mai? Mi sta annoiando Ok vediamo qua Vai nella baby shower Oppure chiamo un amico Per un brunch Ma Chiama qualche buon amico Per un brunch Almeno così Stiamo in compagnia Tutti quanti insieme Sì vabbè Meno male che devo chiamare qualche amico E qua mi è venuto l'intero avvicinato A festeggiare Uh Ma mi hanno fatto pure un regalo Ma che gentili Grazie mille amichetti Mi inviterò più spesso a casa Mi inviterò molto più spesso Così fanno pure i regali Ah 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 Vediamo cosa c'è dentro Sono veramente curioso Su e apri Io devo andare qua a toccare Ok Cos'è sta roba? Ma 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 dai Ma seriamente Ma sta roba mi vanno a regalare E teniamolo È pur sempre un regalo E che faccio Lo borto E non si bortano i regali Ha preso comunque il gesto Uh Un altro regalo Ma che bello Vediamo che cosa c'è dentro Proviamo a vedere Ok su alzati qua Cos'è? Una sorta di quadro Con la cornice Sì teniamo E perché devo buttare Ma scusate Ma da quando i regali si buttano? Mai si sono buttati i regali Mai Vediamo qua Qui dentro che cosa c'è? Latte Ah 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 Ma era necessario Ma era necessario Fare proprio un pacco regalo Per un latte Per una confezione di latte A quanto pare sì E teniamolo E che mica vado a buttare il latte Ma no Non si butta il latte Quello è pur sempre una cosa utile Vediamo qua dentro che cosa c'è Su su apri Michetta Vediamo qua invece Altro regalo Quanti regali mi hanno fatto Ma cos'è? Beh devo dire che è inquietante Ma io una candela del genere la vorrei Io che sono un amante dell'horror Non mi dispiacerebbe una candela così E teniamo Si l'ho tenuta Per sbaglio pensavo Prendiamo qua la menta Che c'è quello giusto Che c'è quello giusto Che c'è quello sbagliato Cosa prendo? Cibo costoso O cibo Economico Eh no Prendiamo quello costoso Uh il cappello Il cappello da cowboy O quello di Santa Claus Di Bobbo Natale No prendiamo quello da cowboy Che è più bello Poi Duck toy Quindi giocattolo di papera Oppure rocket toy Prendiamo il rocket Il razzo Voglio vedere il mio figlio Che gioca con il razzo Tutto in quel modo Ok Questo posto è tutto disordinato Tutto brutto E quindi allora puliamo No insomma Tutto quanto sporco E puliamo Diamo una pulizia Ah ok Giustamente tocca a me pulire Giustamente Panino Tube è diventata una ditta di pulizia a casa Avete casa sporca? Chiamatela ditta Panino Tube Che vi pulirà ogni singola parte della stanza Ok allora Devo fare così per pulire Sì vabbè Poi non è che mi fa pulire tutta la casa Ma che è sta roba? Ma cos'è sta roba che sto pulendo? No no Seriamente qualcuno mi spiegasse cos'è? È tipo una sorta di disco Che non è neanche un disco Cosa sto pulendo tra l'altro? Cosa mi stanno facendo pulire dentro sto gioco? Non lo sanno neanche loro Se chiedesse agli sviluppatori Cos'è sta cosa che mi hanno fatto pulire? Neanche loro lo saprebbero Vabbè Andiamo avanti Proseguiamo Ok Allora Uuu Ci sono rotte le acque Andiamo dal dottore O ignoriamo? No no Ma cosa ignoriamo? Sarebbe bello da fare una seconda parte Dove facciamo le scelte sbagliate Per vedere che cosa succede Andiamo dal dottore Vai Finalmente sta per nascere mio figlio Sto per diventare Ma cosa? Devo guidare l'ambulanza Devo mettermi a guidare l'ambulanza E andiamo qua a guidare No no Devo evitare le macchine però Evitiamo qua le macchine Perfetto Veloce 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 Ma dai Ma come stanno guidando le altre macchine Su vai Vai avanti Come si guida sta cosa tra l'altro Come si guida Cioè insomma Allora vai di qua Veloce Veloce Dai che ci stiamo facendo Dai che ci abbiamo fatto Sì Siamo arrivati a destinazione in ospedale Ce l'abbiamo fatto Un rettilineo Ok Il bambino sta venendo fuori Ah come lo voglio far venire fuori Mondo naturale Oppure cesareo Ma facciamo naturale Cosa? Ma così Ha tirato fuori Ma cos'è? Ma cos'è? L'ha proprio fatto uscire Bum Normalmente No no ma seriamente Una roba più strana di questa Non l'ho mai vista Però è nato mio figlio Tuo figlio è nato Continuiamo Perfetto Ed eccolo qua Uh abbraccio tuo figlio Oppure Vallo a pulire prima No no Abbracciamolo È nato mio figlio Abbracciamolo Sì però vorrei abbracciarlo pure io Sono la mia fidanzata Lo abbraccio E vabbè dai buono Uh che cosa dovrei fare io? Da notare lì il fidanzato Che sarei io Che non sa che cosa deve fare adesso Perché ormai ha fatto sempre lei Allora Diamo il nome al bambino Oppure chiamalo baby Eh no diamogli un nome Come lo possiamo chiamare qua? E chiamiamolo Panino junior Ok Panino junior Ed eccolo qua È nato il nostro bambinetto Ma buonasera Benvenuto al mondo Cosa? Ah un altro cagnolino Sta venendo Va bene Eh mi spiace cagnolino Ma io ti adotterei pure Lo adotterei pure Ma devo guardare un video Per adottare un cagnolino Che ora che però ci penso A prescindere tutto Ma da quando i cagnolini Sanno suonare Il campanello di casa? Quando mai si è visto Una roba del genere? E sono pure cagnolini intelligenti E non posso adottarle Perché devo guardare il video Ma che roba Va bene Abbiamo completato la settimana Proseguiamo Io figlio Ha fame Che facciamo? Gli diamo da mangiare? Oppure parla con il padre? Eh no Diamogli da mangiare Scusa se ha fame Insomma E allora Su Prenditi cura Prenditi cura del figlioletto L'ha allattato per bene Ma che roba Ah no No Se l'è fatta sotto nel pannolino Il bambino E ora tocca a me cambiare Eh no Chiama il marito E con No 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 Io devo farlo Il marito lo deve fare Ma cos'è? Ma perché? Ma dai Lo sta facendo realmente Ha cambiato il pannolino Il marito Vai Cos'è? Bello pulito Bello pulito Il nostro figlio È pulitissimo Perfetto Proseguiamo qua Oh mamma mia Qui sta giocando Sta giocando il nostro figlio Che sta facendo? No Sta iniziando a muovere I suoi primi passi Avete visto? Ha imparato a camminare Ha fatto un anno di vita E adesso dobbiamo tagliare la torta Per festeggiare il compleanno Buon compleanno figlio Buon compleanno Ok sì E qua Scusa eh Ma seriamente Dov'è andare proprio preciso preciso Ma che roba è? Ma taglia le fette come si deve Ma da quando? E vai E che roba Su Qua tagliare ste fette di compleanno Ma neanche nella realtà Bisogna fare ste cose Eh no Tagliamo l'ultima fetta E che faccio? Taglio tutte tranne l'ultima Vai Tocchiamo Dawn L'abbiamo fatto Scena speciale Smash cake Dove viene quello che Rompe tutta quanta la torta E però dovrei guardare un video Per sbloccarla Quindi Direi di proseguire Andiamo avanti qua Con la nostra partita Vediamo adesso che cosa succede Ok Sta chiamando il telefono Uh Cosa devo fare qua? Qual è il problema? Devo guardare qua? Ho avuto una chiamata D'emergenza Eh però Mi spiace Non posso Perché devo guardare un video Se voglio fare sta cosa qua Chiamata d'emergenza Va bene E ora cosa sta succedendo? Ok Vorrei prendermi cura Di me stesso Cosa dovrei fare? Mi faccio le unghie O mi faccio la maschera facciale E fatti No no Fatti la maschera facciale Va Vediamo che cosa succede Voglio vedere sta maschera Che ti mette in faccia E adesso Ah devo proprio metterla io qua Ma seriamente Con il dito così A mettere la mascherina Eh Non è per dire ma Più che mascherina No perché veniva tutta quanta macchia Quindi Sembrava tutta altra cosa Vabbè lasciamola così E adesso devo Toccare No Che sto facendo? A posto A posto Non so neanche che cosa sto facendo E adesso Ah Per farmi le unghie Dove guardare adesso il video E non posso Va bene va bene E proseguiamo Vediamo qua che cosa succede Ok Il mio bambino ha bisogno di Giocattoli E quindi andiamo qua A comprare i giocattoli Giustamente che facciamo? Non lo facciamo giocare sto bambino E allora Cosa gli compriamo? Gli compriamo qua sto peluche Ma c'era l'ascia di là C'era un'ascia Potevo prendere l'ascia Sì sì Prendiamogli l'ascia Ok Gli abbiamo preso l'ascia La TNT Ma cosa stiamo prendendo qua? Va bene Allora Che deve fare qua adesso L'amichetta? Non lo so Ah Deve mettere un po' in ordine Deve mettere a posto i giocattoli Va bene Dai direi di fare una cosa Direi per il momento Di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vorreste vedere Una seconda parte di questo gioco Che lo porto molto volentieri Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Buona giornata Buonanotte Ciao a tutti E buon panino a tutti